hello good morning how are you i hope you're fine hope everyone is in good health this morning per cui vi auguro di stare bene e niente vi sto mandando un lavoretto da fare perché qualcosa la dobbiamo por fare e allora è giusto magari vedere qualcosa che ci interessa più da vicino visto che noi avevamo iniziato a parlare dei canterbury tales ho analizzato un video che vi dà un po l'idea sul sul periodo storico antecedente la scrittura dei canterbury tales per cui tutto il periodo medievale è tutto quello che succede nella gran bretagna nella bretagna per meglio dire di allora c'è un questionario che questo questo qua ve lo manderò attraverso whatsapp in un file pdf e voi lo completate avete un po di tempo diciamo che la scadenza è mercoledì per cui mercoledì prossimo mi mandate alla mia mail che vi darò dettagliatamente mi mandate il il compito con con le risposte in maniera tale che insomma ci esercitiamo un pochino e la cosa più importante è un pochino di prova d'ascolto visto che il video è in inglese american english in this case ok so statevi bene soprattutto è un po di relax dormite un pochino più la mattina ci sentiamo bye 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 ciao